Bisogna guardare il futuro, è vero, non si può tornare indietro quando si prende una decisione. Indietro non si torna, dunque, nessun ritorno in panchina di Mr. Tesser. Questo è chiaro dalla conferenza stampa fiume del presidente americano della Triestina, Ben Rosenweig, proprio sulla gestione dell'esonero, però il numero uno dell'Unione ha recitato un mea culpa. Riconosco che ci sono stati alti e bassi, alcune nostre decisioni non sono state comunicate bene, dando vita a confusione e sofferenza nella tifoseria. Mi prendo la totale responsabilità di questo e migliorerò anch'io come presidente. Allora, perché realmente Attilio Tesser è stato allontanato da una squadra terza in classifica? Abbiamo avuto subito buoni risultati senza soffrire, una cosa atipica per il calcio italiano. La domanda in società era, questi risultati sono sostenibili? Stiamo costruendo un miglioramento complessivo della società in prospettiva? Abbiamo capito che ciò che stavamo facendo non era sostenibile, quindi bisognava fare un passo indietro. Ed era meglio farlo subito, questo passo indietro, piuttosto che tardi. Anche se questo è stato difficile da digerire per i tifosi, l'esonero di Tesser e anche perché ha messo in realtà maggiore stress e maggiore pressione alla società. Ma ho fiducia nella decisione, è stata presa quella giusta. Dobbiamo avere pazienza e vedrete che funzionerà sul lungo periodo. I risultati non hanno scoperto ancora, ma dobbiamo essere un po' più pazienti e continuare a lavorare ogni giorno. Dunque la situazione societaria con il presidente a snocciolare i progetti per il futuro, investimenti, centro sportivo, obiettivo serie B e soprattutto sostenibilità economico-finanziaria. Poi una parola per la squadra e Mr. Bordin, reduci dalla quarta sconfitta, dall'arrivo della nuova guida tecnica, la quinta, considerando l'ultima gara con Tesser in panchina. Non abbiamo giocato bene ed è giusto essere arrabbiati per questo. Anch'io sono frustrato, voglio vedere il club fare bene e i giocatori essere pronti a tutto pur di difendere la maglia della Triestina. Mi aspetto di andare ai play-off, ora la squadra avrà il tempo di capire meglio il sistema di Bordin che è qui da solo tre settimane. Infine la questione abbonamenti non goduti dai tifosi per l'indisponibilità del Rocco, misure di compensazione in arrivo. Stiamo studiando delle soluzioni per gli abbonati, dei benefit su cui diremmo molto presto qualcosa. Al momento non posso anticipare nulla a seguito della situazione finanziaria dovuta anche dall'essere in Serie C, ma voglio che sia chiaro che faremo un gesto importante per ripagare i tifosi dei loro sacrifici.